Grazie alla pioggia in pochi giorni il rischio siccità si è dimezzato. Il livello dell'aria è sopra la media stagionale nel contempo. La diga di Olginate ha alzato le barriere per far defluire attraverso l'Adda l'acqua necessaria alle culture della bassa padana. Grazie alle ultime precipitazioni e alle manovre stabilite attuate durante i tavoli, spiega Massimo Sertori, assessore regionale agli enti locali, siamo passati da un deficit idrico di meno 60% all'attuale meno 36%. L'appello, prosegue Sertori, manca ancora un miliardo di metri cubi di risorsa idrica rispetto alla media storica, ma l'anno scorso in questo periodo avevamo una disponibilità inferiore di quasi 500 milioni di metri cubi. Le previsioni confermano possibili precipitazioni su tutta la regione Lombardia fino al lunedì 15 maggio. La situazione rimane però attenzionata, prosegue Sertori, ma più alleggerita rispetto ai mesi precedenti. In questo momento tutti i laghi lombardi hanno recuperato altezza in modo sostanziale. Citiamo il lago Maggiore, che ha raggiunto quasi il valore massimo, e il lago di Como, il cui livello è salito a circa 85 centimetri. In aumento nell'ario sia l'afflusso sia il deflusso, con valori che non si registravano da mesi e che non si erano verificati lo scorso anno. Se da una parte si può tirare dunque un sospiro di sollievo, dall'altra non si può certo per questo iniziare a sprecare acqua. Naturalmente resta alta la guardia, conclude Sertori, sia per la gestione quotidiana della risorsa idrica, a partire dai monitoraggi, sia nell'affrontare gli investimenti a medio e lungo termine, con il continuo e costante confronto, insieme alle parti interessate, con il governo attraverso la cabina di regia, coordinata dal ministro Matteo Salvini.